si è stato 20 minuti a fare teoria lassù hai parlato di tutto di più delle sospensioni del ktm che non hai mai visto un ktm in vita tua allora no il gs80 del 79 perché l mc5 l mc5 nel 78 poi ha fatto il gs80 nel 79 e ci aveva la riga sul serbatoio bassa rossa e arancione mentre mentre l mc5 del 79 ci aveva la cosa che c'era tutta il suo serbatoio preparatissimo così lo sta tecnico marco chiamolo a gobbio va bene così ma lascia perdere il ktm di qua bruttifro ci date il caso pensate che era meglio dall'altra parte così scola no bisogna avere la temperatura della braccia maiale deve essere cotto come puglio l'ora 15 sono con la molla la sa barzelletta con il terzo sistema di carbone comincia a sentire il profumo preparate altre 8 non ne preparate altre 8 alla volta siamo in 10 che cazzo un po' per un po' alla volta